E' stata inaugurata al PAF la straordinaria mostra Shaun the Ship and Friends, l'esposizione che per la prima volta in Italia presenta gli irresistibili personaggi nati dalla mente creativa degli Aardman Studios di Bristol. Accanto a Shaun troviamo Wallace Gromit, galline in fuga e pirati da strapazzo, tutti realizzati in plastilina con la complessa tecnica dello stop motion. Bozzetti, disegni preparatori, ambientazioni e grandi set cinematografici per gli appassionati di tutte le età. Abbiamo superato tantissime difficoltà dal Covid perché è una cosa che è nata più di due anni fa, i problemi della Brexit, dogane, trasporti, ma adesso abbiamo qui una mostra veramente incredibile e inaspettata. Abbiamo 30 set provenienti dai film più famosi di questa casa di produzione di Bristol, Aardman Studios. Abbiamo uno dei quattro premi Oscar che questo studio ha vinto. Abbiamo uno dei set più incredibili, quello del galeone dei pirati che è grande 5 metri, quindi abbiamo un galeone all'interno di un museo. Quando è un ragazzo Wallace Gromit è un autentico mito. Per chi ha dei bambini come me, Shaun the Ship è un appuntamento imperdibile in televisione. Cioè abbiamo ospite Peter Lord, una figura mitica del mondo dell'animazione, una figura che fin da ragazzo aveva inseguito questo sogno e che poi l'ha coronato con grandissimo successo. Fondatore di un'azienda che ha ricevuto quattro Oscar proprio relativamente a questa attività, oggi ho non rapporto con la sua presenza. È comunque un'espressione culturale di altissimo livello, di prestigio. E portarlo al PAF rimarca il ruolo fondamentale di questa centrale culturale della città. L'intento del Comune è di perseguire, di continuare a sostenere chi oggi offre un ventaglio immenso ai nostri cittadini, e non solo loro, di opportunità culturali. Quindi momenti di svago ma anche momenti di approfondimento su settori culturali che non sono sempre così conosciuti. Durante la cerimonia il sindaco Alessandro Ciriani ha consegnato il sigilo della città di Pordenone a Peter Lord, regista, produttore e cofondatore dei Yardman Studios, riconoscendo all'artista inglese la straordinaria importanza nel mondo dell'animazione, attestata anche dai numerosi Oscar che gli studios da lui fondati hanno collezionato negli anni. Credo che questa mostra sia straordinaria, e spero lo sia anche per tutti quelli che verranno a visitarla. Entrando in queste sale, ovunque si guardi, ci sono oggetti bellissimi, curiosi e divertenti, presentati in modo accattivante. E riguardo alle sue creazioni, quali sono quelle a cui è più legato? Amo profondamente i personaggi di Rocky e Ginger, di Galline in fuga. Questo è stato il primo lungometraggio proiettato al cinema. Un film che mi ha divertito tantissimo e che è stato molto apprezzato dal pubblico. Se devo essere sincero, considero realmente quelle Galline come dei membri della mia famiglia. La mostra sarà visitabile fino al 24 settembre.